e bella per tutti ragazzi questo è un nuovo failissima e oggi tratteremo gli animali pazzi tutto il mondo non sono proprio fail ma sono animali strani vorrei dire ma nella sigla vorrei la bombetta prima o poi ce la metteremo dai dai ce la metteremo oddio spider cat spider cat hai presente quei giochi tipo le freccettine per bambini che in realtà sono palle di velcro che lanci sul coso di velcro in realtà è una semplice zanzariera però fa impressione lo stesso questo cane è stranissimo le convulsioni non posso fare battute cattive perché c'è tipo sugli animali non si può scherzare è un cane normalissima lo fanno è stato bellissimo perché si ferma ad un certo punto e poi se ne va il culo gliele chiude l'acqua e lui la riapre quanto è forte sto cane è bella che poi si scherza e tiene la la zappa e ha detto bastardo si fa un po' come la mano scusa scusa che cos'è che cos'è è un filo no è l'acqua io sto spruzzando l'acqua è un pizza spruzza con pistola pazza spruzza 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 cos'è una capra è una capra boh oddio sei rigidi da tutta è tipo tipo la schermata blu di windows si fa bene la parucca la signora la parucca si vuolta levargliela gli ha grabbata ciao sono un gatto e faccio un gatto fumatore ma questi sono i gatti parkour ve lo posso dire sicuramente farà qualcosa di idiota tipo si metterà dentro una scatola un gatto che fuma? ciao rega vado a fare la sigaretta bella la cosa bella è che se l'è anche sistemata si 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 è messa dritta quello è un uomo reincarnato ci metto la firma ma c'ho staccarezzato vedi perché mi piacciono di più i cani cioè fattelo fare da un gatto il gatto dice dorme in testa è diverso e vedi fatti un cane portami una birra mi sento proprio al fresco si è chiuso dentro è uscito con una birra lo vedo che aveva portato alla fine la birra oddio un lucida labrador si è cascato è diventato in panica cuorello è diventato una tartaruga un ufo cos'è questo? oddio a inizio pensavo che stava a mettere in braccio al culo oddio quanto gira veloce ha caricato il gameplay blade taz 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 mania ma date un calmante a quel cane non è normale questa è una gallina è una gallina? si ma sai che le galline le puoi usare come stabilizzazione ha cagato novo oddio ha cagato novo davvero non me l'aspettavo oh like a boss carlino bello che faccio da quello qui non so che fa il prossimo animale che mi faccio è in carlino sappiate perché questo no è bellissimo magari era un cazzo di tappeto tappeto con le gambe non il cazzo questo è un coniglio ma è morto? no scusate oddio ma che schifo pare tipo Donnie Darko è un coniglio è un coniglio malato fatemi vedere che è vivo sono preoccupato per quel coniglio ancora il cane è vivo o è un altro? boh però la razza pare quella è la razza dei canni è la razza dei canni posso slash quittà tutto raga? ciao a domani insomma raga che du coglioni raga ma che sto facendo? ciao ciao guarda che pacifico guarda l'immagine che pacifico ma proprio così spapo questo è morto il gatto è morto è spiattellato è buer cane però è uno scherzo questo è un cane da passeggio che fa allenamento cos'è un pesce? questo è un scogliattolo come è un pesce? è uno scogliattolo sembrava un pesce oddio oddio se ne fa così se ne fa così questo è Tokyo Drift è impazzito è DK è il Drift King e raga questo è un strammo a granico dopo la capociata c'è rimasto poverina cos'è questo? che cazzo è? che cazzo vuoi? è un cazzo? è un cazzo è un cazzo è tipo mi pare che l'hai sgammato fa qualcosa di strano un passo via a Magalli quel cane e niente raga grazie mille per averci seguito fino a qui mi raccomando offrite un caffè ai ai wrestler e cliccate su facebook per andare sulla nostra pagina e cliccate mi piace sul logino di youtube invece cioè per iscrivervi al canale e bella per voi e non fatevi male e non accettate te dagli sconosciuti bella esatto bella